Ciao amici, siamo in dirittura d'arrivo, piccolo lago, due stelle Michelin, lago di Mergozzo. Stiamo andando a fare uno shooting fotografico, un progetto ben più importante, che fa parte del progetto Bosch Star Tour, un tour che vede protagonisti, gli chef stellati, due stelle, tre stelle Michelin. Oggi vedremo, abbiamo la lista dei piatti, abbiamo iniziato a conoscere le persone che compongono lo staff, abbiamo dietro la macchina carica di materiali, softbox, e quanto più potevamo caricare, speriamo che siano dei bei piatti, gli confidiamo nello chef, Marco Sacco, e basta che dire di altro, abbiamo fondali, abbiamo... No, si inventiamo di scoprire il mondo di Marco Sacco per vedere un attimo come si muove. speriamo, confidiamo, confidiamo sicuri, a presto, ciao!